Sono felice di partire per questa nuova esperienza, sono veramente esaltato di provare con l'ebrezza di piantare le mie picche nel ghiaccio della Groenlandia, mi sono allenato duramente sia su ghiaccio che su slackline in questo periodo e voglio veramente dare il massimo di me stesso. Io sono Mattia Felicetti, questa è Montura Iceberg Challenge, seguiteci!